buongiorno a tutti e bentrovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di decreto legge mille proroghe sua conversione in legge in arrivo alcune novità sulla scuola prima domanda le tanto attese gradatorie di terza fascia ata che sarebbero dovute essere aggiornate in primavera 2024 la questione interessa circa due milioni e mezzo di candidati di aspiranti a queste gradatorie potrebbero slittare per un anno di un anno per una norma inserita nel mille proroghe non è ancora certo che le gradatorie d'istituto del personale ata di terza fascia saranno aggiornate nel 2025 e non nella primavera del 2024 esistono alcuni emendamenti al decreto legge mille proroghe che dovrà essere convertito in legge entro il 2024 che chiedono la proroga di un anno degli attuali gradatori della terza fascia ata quindi il rinvio di un anno del loro aggiornamento o anche trasferimento perché queste gradatorie se aggiornate avrebbero consentito già con la domanda fatta quest'anno di trasferire di provincia gli aspiranti che già si trovano in gradatorio domanda numero 2 le gradatori provinciali per le supplenze note come gps il cui biegno 2022 2023 e 2023 2024 in fase di scadenza verranno aggiornate con la possibilità di trasferimento in altra provincia e dunque l'aggiornamento della propria posizione è utile sapere che il decreto mille proroghe 2024 l'articolo 5 comma 2 dispone norme precise sui tempi e i modi di aggiornamento delle gps la norma suddetta prevede che l'aggiornamento delle gradatori provinciali per le supplenze per il biegno 24 25 e 25 26 sia disciplinato con un'apposita ordinanza ministeriale quindi nella tarda primavera 2024 ci sarà l'aggiornamento e quindi anche il trasferimento di provincia delle gps proprio per il biegno 24 26 questo decreto mille proroghe questa norma del decreto mille proroghe da anche certezza che l'aggiornamento delle gradatori gps avverrà con cadenza biennale domanda numero 3 nell'esame di stato 2024 del secondo ciclo per la conclusione degli studi del secondo ciclo l'ammissione dei candidati dipenderà dall'aver frequentato le ore di pct o svolte nell'ultimo triennio ebbene anche per l'esame di stato 2024 così come già accaduto nel 2023 e nel 2022 la frequenza del pct o non dovrebbe rappresentare un requisito di ammissione dei candidati all'esame a tal proposito si attende di conoscere l'esito di approvazione di un emendamento al mille proroghe 2024 che prevede proprio che il pct o o meglio la frequenza del pct o non sia requisito di ammissione per gli esami di stato 2023 2024 speriamo che le risposte date siano diciamo di utilità a tutti i nostri telespettatori seguiteci sui nostri canali social facebook youtube nelle nostre dirette perché tratteremo temi come quello del mille proroghe la settimana prossima probabilmente tutti questi emendamenti di cui abbiamo parlato oggi nella rubrica domande risponde sapremo se verranno approvati oppure respinti e dunque è importante seguire l'evoluzione di questa legge come anche di altre leggi che contratti e di altre novità sul mondo della scuola arrivederci a tutti grazie a tutti